La passione per la musica è un po' di famiglia. I ricordi più belli che ho con mio padre siamo io e lui a cantare le canzoni di Celentano, dei Nomadi, di Fabrizio De Andrè. È una passione che porto avanti per me ma viene da lui. Mio padre non è qui ma è come se fosse qui. Io l'ho perso cinque anni fa quando avevo vent'anni e non è stato facile. Il tuo papà, dici, non è più qui ma è come se fosse qui, anche il mio. Non è più qui ma è come se ci fosse. Mi ha fatto piacere ricordare papà, devo sempre ricordarlo e cantare per lui. Il portato via l'ossigeno allo stesso tempo me l'ha dato. Mentre cantavo ho rivisto i giorni di freddo, i giorni di caldo, l'amplificatore che pesa. Ma ho visto anche le persone che si fermano, che mi apprezzano. È tutto un bagaglio che abbiamo solamente riprodotto qui sul palco. 2457! Ho cantato per la loro gioia. Arrivare in finale assolutamente non me l'aspettavo e sicuramente canterò e sarò felice. Questo è il valore più grande. Grazie.